Salve a tutti i maledetti. Sì, un altro video del cazzo, dopo quello su The Colors. Parliamo di quello che è successo tra Delly Mello, Ciccio Gamer, Pio3D e Marcus Krohn. State tranquilli, conoscendo Delly, Pio, MK e Ciccio anche dal vivo, sono tutte cose che gli ho già detto, che ho già detto anche nei miei video, ma mi ripeto per voi bellezze che mi state guardando. Cosa è accaduto? Neanche sto qui a dirvelo. Questo è il video di Ciccio, questo di Delly, questo di MK e questo di Pio. Bypasserò tutto ciò che si sono detti di personale, perché quello, essendo gossip, mi interessa a zero e andrò a parlare sul concreto. Ciccio ha fatto un video vero, conoscendolo, quelle che ha versato erano lacrime vere, ora le domande, se si vuole analizzare esclusivamente il fatto, sono due. La prima è molto personale. È necessario far uscire la propria emotività in un video e dare questa emotività in pasto a chiunque sul tubo? Ed ovviamente la risposta per Ciccio è sì, come ha avuto il bisogno di fare quel video dove spiegava ciò che gli era accaduto a livello fisico, ovviamente ha avuto anche il bisogno di far vedere ciò che provava in quel momento, mentre guardava i video di suoi amici. Lo trovo coerente con la persona che ho incontrato, che conosce anche i rischi e sa quanto è pericoloso fare una cosa del genere su internet, ma se non gliene frega un cazzo, oh, amen. Quindi non lo trovo un problema. La seconda parte è quella relativa al bullismo. Io non ho idea se stesse riferendosi a Delly oppure a quei mentecatti che lo prendono in giro per ciò che ha passato o che continua a passare, perché se è per i secondi, bon. Giusto così. Se è perché si parla di lui per ciò che fanno i video, allora... Cosa ha fatto Delly, invece? Immagino che abbia ipotizzato che Ciccio stesse parlando con lui ed ha fatto il video che avete visto poc'anzi. Poco da dire. È un video alla Delly dove prende le sue idee, le porte agli estremi della sua retorica, facendo anche il verso di Ciccio che piange e puntando a parlare il fatto che lui sfrutta i bambini per far soldi. Ed anche qui andrei a prendere il succo del discorso. Sono anni che affermo il mio essere neutro con chi sfrutta i bambini per far soldi, perché dall'alba dei tempi, durante i cartoni animate degli Street Sharks, poi arriva la pubblicità delle scarpe degli Street Sharks. Quindi i bambini volevano le scarpe ed i produttori pagavano la rete per avere lo spazio, nulla di nuovo sotto il sole. Ed anche il voler creare video finti, facendoli passare per veri al fine di intrattenere, lo trovo in qualcosa che non intacca il contenuto, cioè l'intrattenimento puro. Evito di ripetere ciò che penso riguardo al problema della mancanza di pedagoghi nella creazione di questo tipo di intrattenimento, perché basta, andate a cercarvi qualche mio video a riguardo. Quindi dopo quel video di Delly, ecco Marcus Krohn, ma ne parlerò poco, vi linko un mio video dove spiego cosa è essere un vlogger, MK lo sa bene, è come andare a dire ai giornali perché parli di Berlusconi, vuoi fare i soldi, perché l'argomento è il mezzo per veicolare un messaggio, se io parlo di mio zio per parlare di arte, non mi caga nessuno, se io parlo di ciò che ha detto Clapis, sì, è un po' come dire io gioco a Diep.io perché mi fa più visualizzazioni che se gioco a Quake 3. Ecco, la stessa cosa, con un fine leggermente diverso, quindi presupponendo che la sfera privata è privata, e se si intacca si parla giustamente di gossip, se tu, chiunque tu sia, non vuoi che si parli di ciò che fai pubblicamente, devi rimanere nell'anonimato, ma ce ne dobbiamo convincere però. E cosa è poi accaduto sotto il video di MK? Gabbo ha lanciato una frecciatina a Pio 3D, Marcus Cron ha commentato, praticamente dando dell'ipocrita a Pio 3D, Pio ha letto e ha creato un vlog. Pio, te dico una cosa da persona che ti ha sempre parlato con tranquillità. A parte il fatto che non sono d'accordo con te riguardo l'entertainment sui videogiochi, già te l'ho detto, perché un sacco di persone su YouTube prano anche a fare video dove vorrebbero far ridere ma non ci riescono mai, quindi la facilità riguardo al tubo è accendere una webcam, solo quella. Dicevo, a non fai nomi non ci si capisce un cazzo, vuoi parlare di ciò che ti è accaduto oppure vuoi sfogarti te? Perché? se io non conoscessi tutte quelle storielle non ci avrei capito davvero una mazza. Amico, era amico, tizio, quell'altro tizio, l'amico del tizio del tizio, non si capiva nulla. L'unica parte abbastanza chiara è quella dove parli del mettere i like ad una persona anche se non sei d'accordo completamente con il suo pensiero. Che trovo la più interessante e dove sono concettualmente totalmente d'accordo con te? Ragazzi, se un argomento mi interessa e come è stato affrontato mi è piaciuto, posso mettere di certo un like anche se non sono d'accordo con molto di ciò che il tipo ha detto anche solo per ampliare il dibattito su quell'argomento? Oppure non è così? Non possiamo tacciare come comportamento ipocrita un qualcosa che se non sei la persona stessa non sai se effettivamente è ipocrita. Solo Pio sa se quel like l'ha messo perché vuole leccare il culo a Dally Mellow, perché vuole fare il doppio gioco Dally Ciccio, oppure perché vuole portare l'argomento del vlog ad avere una maggiore visibilità. Non lo so io, non lo sa MK, non lo sa Dally, solo Pio. Io posso ipotizzare al massimo ma finisce in lì. E quindi nulla, come ho già detto questo video l'ho fatto solamente per le views, ma a me ne ho trovato un piccolo modo per veicolare alcuni concetti già ampliamente discussi qui sopra per chi finora mi ha seguito poco o è nuovo. Bella a tutti, statemi discretamente bene. Il vostro, Vic Leib. Grazie a tutti.